Io gioco a pallone, è quello che mi piace fare, è quello che mi sta riuscendo e poi dopo il gol, l'assist e la giocata sono tutte le conseguenze. Sono contento così, penso che bisogna essere contenti, bisogna avere entusiasmo, ma bisogna continuare a lavorare forte perché penso che lavorando forte ci possiamo divertire. È un lavoro mentale, è un lavoro fisico, adesso sicuramente la continuità anche in classifica dà uno stimolo in più, bisogna rimanere molto concentrati. Diciamo tutti e due perché l'abbiamo visto anche noi in questi anni quando inconsciamente andando avanti in Europa ci mancava qualcosina in campionato, però penso che una grande squadra come noi o comunque come noi che lavoriamo per essere una grande squadra non debba avere questi cali fisici e mentali. Quindi lavoriamo per questo, lavoriamo per spingere sempre di più, per migliorarci sempre di più come individualità e come collettivo e cercando di arrivare alla fine sia in campionato che in Europa dove vogliamo arrivare. La sensazione è che la Roma abbia sempre in controllo la partita, che la gestisca, sappia colpire nel momento opportuno. Ci troveremo contro in Europa una squadra simile, che gara ti aspetti anche a livello emotivo? Sarà una gara difficile a livello emotivo, ne abbiamo giocate tante in questi anni, quindi sappiamo quello che magari ci aspetta. Loro sono un'ottima squadra, una squadra a cui piace giocare, piace avere il pallone e anche noi, secondo me sarà veramente una bella sfida da vedere. E da domani inizieremo a pensarci su, sarà una gara che si giocherà in due partite, quindi anche questo è un aspetto molto importante. E nulla, quello che ho detto prima, noi continuiamo a lavorare sempre di più perché c'è tanto da migliorarci individualmente e collettivamente e perché penso che bisogna farlo per tutte le nostre ambizioni che sono alte e tante. Grazie. 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 Grazie.